Ok, ti faccio vedere, Massimiliano D'Ambrosio è un cantatore che stiamo promuovendo noi, abbiamo promosso i suoi due singoli, questi qui, infatti lui partiva da zero, come puoi vedere le altre tracce a stento pochissime, arrivavano a più di mille. Lo abbiamo portato a 19.995.000 play per il giardiniere, né testa né croce invece a 26.539, a 14.572 ascoltatori mensili, come abbiamo fatto proponendo il suo brano nelle playlist indipendenti di qualità grandi, enormi, le definisco io, sono playlist che vanno dai 10.000 ai 100.000 followers e riusciamo a garantire dai 3 ai 10 inserimenti. Se anche tu hai bisogno di promozione e hai lo Spotify a zero, i singoli praticamente non ascoltati da nessuno e vuoi dare una svolta al tuo profilo Spotify, alla tua musica, vai nel link qui sotto, trovi tutte le informazioni e acquista un pacchetto di promozione. Il miglior servizio di promozione Spotify rapporto qualità prezzo, playlist vere, reali, non bot, salvataggi potrai controllare dal tuo Spotify for Artist, guarda altri artisti, ti faccio vedere, per esempio ti faccio vedere Bettati Angelo, un altro musicista che stiamo promuovendo, stiamo veramente promuovendo un sacco di artisti con questi risultati. 26.157 ascolti per Vengo a Ti, Madama 8.364, Paradiso 14.865 e così via tutte le altre, 11.776, Lumache 7.516, anche lui partiva da zero, adesso ha 15.501 ascoltatori mensili. Vai nel link qui sotto e sfrutta questa promozione, proponiamo il tuo singolo a oltre 200 playlist Spotify selezionate, poi in base a come piace il tuo brano potrai essere inserito e crescere, otterrai nuovi ascoltatori mensili unici, otterrai nuovi play al singolo e otterrai nuovi follower. Ma non trattiamo qualsiasi genere, per esempio vediamo Maestro Antonio Urbino è un altro che stiamo seguendo di recente col suo, abbiamo promosso piano sonata opera 3 21.847, tutti gli altri singoli anche 18.254, 34.101 play, sono questi i numeri con cui viaggiano i nostri artisti, se anche tu vuoi dare una svolta vai sul link qui sotto e attiva la promozione, cresci su Spotify, trova nuovi follower e cresci, 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 link qui sotto, ci vediamo dall'altra parte.